Anche in questo fine settimana esaminiamo gli impegni delle squadre campane impegnate nei primi tre principali campionati della pallacanestro al maschile, la Serie A, la Serie A e il campionato di Serie B. In Serie A, terzo ultimo turno della stagione regolare, il 28esimo con la Gemi Napoli Basket al terzo ultimo posto della gradatoria, reduce purtroppo da tre sconfitte consecutive, che nel posticipo dello stesso 28esimo turno alle 20.45 di domenica ospita la Banco di Sardegna Sassari, formazione invece che è al sesto posto della gradatoria. Una partita inutile ricordarlo, importante per entrambi i quintetti che scenderanno sul parquet, partita fondamentale per Napoli per cercare di allontanarsi quanto più fretta possibile dalla zona bassa della gradatoria in vista del prossimo impegno sul parquet della fortitudo Bologna e anche naturalmente per i Sardi che sono impegnati alla rincorsa alle prime cinque posizioni della gradatoria. Per la Gemi Napoli Basket però non sarà assolutamente facile battere la formazione guidata da Piero Bucchi, allenatore, lo ricorderete, della Carpisa Napoli che ha dato grandi soddisfazioni con Napoli Basket dell'era Maione alla pallacanestro cittadina. Ebbene Piero Bucchi ha a disposizione un roster di primaria importanza con il playmaker Gerald Robinson, l'espertissimo esterno Logan e poi ancora Benzius, Barnell, Kruslin e sottocanestro Bilan e Diop, insomma una squadra quella del Banco di Sardegna Sassari veramente molto attrezzata e non facilmente battibile. Sarà una serata di grande intensità per la Gemi Napoli Basket che, ripeto, deve ritrovare la vittoria e anche l'entusiasmo dopo tre battute d'arresto consecutive. Passiamo ora alle vicende del secondo campionato del basket italiano al maschile, il primo dilettantistico, il campionato di Serie A2 con la Gbopascafati ancora capolista nel girone rosso in occasione del terzo turno della fase all'orologio che va a giocarsi proprio in questo fine settimana. Gbopascafati che però purtroppo non ha potuto giocare il secondo turno, la trasferta di Capodorlando è stata rinviata al prossimo 27 di aprile. Col dubbio legato alla presenza in campo, o meglio sul parquet del centro dell'Aurentis, la formazione giallo-blu cara a patron Longobardi domenica alle ore 18 ospiterà una delle formazioni migliori di tutto il campionato. Stiamo parlando dell'Acqua San Bernardo Cantu guidato dall'ottimo esperto coach Sodini che ha come vice allenatore un altro esperto coach Max Oldoini. Ebbene Cantu non potrà probabilmente disporre contro il giallo-blu dell'americano Allen che dovrebbe restare ancora lontano dal rettangolo di gioco per qualche settimana a causa di un infortunio. La sua assenza comunque sarà compensata da un roster di grande spessore con i vari Bryant, playmaker da oltre 15 punti di media partita, Stefanelli, Bucarelli, Baie, Daros, Nikolic, lo ricorderete a Napoli con il cuore Napoli Basket e poi Cousin. In dubbio per i Lombardi anche la presenza dell'Ala Severini. Insomma un impegno importante in funzione dei prossimi play-off e della fase decisiva del campionato per la Givova Scafati. Alle ore 18 appuntamento al Palamangano con l'Acqua San Bernardo-Cantù. Siamo al terzo campionato del basket al maschile nazionale, il torneo di Serie B. Ci occupiamo come sempre delle vicende delle squadre campane impegnate nel raggruppamento di, ricordo la loro classifica, al quarto posto c'è la Virtus Arecchi Salerno che però purtroppo ha perso il recupero in settimana con Bisceglie 69 a 62. In ottava posizione c'è la Parteno Pesantantimo, in tredicesima posizione la del Fessavellino, al quattordicesimo posto la Virtus Pozzoli e al penultimo posto il Forio Basket. Andiamo a guardare gli impegni delle squadre campane. La Virtus Arecchi Salerno è ancora impegnata fra le Murami che giocherà domenica alle ore 18 al Palasport Carmine Longo, ospitando Cassino. Formazione di grande legnaggio con i vari Bagnoli, Lestini, Borsato, Teghini e Provenzani, una squadra sicuramente da non sottovalutare alla Virtus Arecchi Salerno però oggettivamente serve una vittoria per rilanciarsi in classifica tra le prime posizioni della stessa. Partita molto interessante invece è quella della del Fessavellino che ospita il Fessavellino di Coda, la squadra già retrocessa del Metafornia per la del Fessavellino che deve recuperare due partite, l'obiettivo è quello di vincere contro i Laziali per cercare di risalire ancora di qualche posizione nella classifica in funzione dei prossimi playoff. La formazione di coach Benedetto sicuramente è in grado di ottenere il pieno risultato contro i Laziali. Difficile trasferta invece per il Forio Basket 1977 di coach Cardone che va a giocare sul parquet della capolista Agrigento, squadra di grande lignaggio e con un roster sicuramente molto importante con i vari Chiara Stella, Costi, Morici e compagni. Insomma una trasferta ostica, il forio deve trovare però punti per risalire la classifica. Sarà fondamentale giocare un buon match contro la capolista. La Bava Virtus Pozzuoli ospita la Fidelia Torrenova del duo di allenatori Bartocci e Dragonetto con la speranza naturalmente di far bottino pieno per la Bava Virtus Pozzuoli dopo una serie di sconfitte è obbligatorio tornare a vincere. Il terzo ultimo posto è abbastanza penalizzante per un roster che sicuramente non merita questa posizione di classifica. Speriamo insomma che si possa ottenere una buona vittoria contro la non facile compagine messinese. Infine la Partenope Sant'Antimo ospitali ore 18, il Bisceglie in quello che è uno dei big match della giornata per la formazione di coach Origlio che deve rientrare pienamente in zona playoff. Non sarà facile però battere il Bisceglie che viene appunto dal confortante successo nel recupero contro Salerno. Attenzione a Deep, Drone, Fontana e compagni. La squadra quella pugliese è veramente molto temibile per Sant'Antimo. Sarà un ostacolo non facile da superare ma vediamo insomma la formazione di coach Origlio è capace di ogni risultato e soprattutto fra le muramiche è capace di ottime prestazioni. Come sempre un bocca al lupo a tutte le squadre campane per una giornata che speriamo possa essere felice per i colori della nostra regione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.